Allora Silvio è esposto una donna bellissima, una ragazza forse una delle più belle di Capri, degli occhi cristallo Inquadriamogli questi occhi meravigliosi, vuole fare i suoi auguri a Pierluigi e Anastasio in questa serata Prego Vabbè, gli auguri già li abbiamo fatti, ormai stiamo quasi a confusione Certo Vabbè, è stata una bellissima serata, magari da rifare in qualche occasione Magari ci buttiamo in piscina Certo, stiamo aspettando solo Nudi, no? Stiamo aspettando solo quello Tutti nudi in piscina Sì, tu sei il primo, grazie Assolutamente sì Un bacione Pierluigi, tanti auguri Ciao Allora, qui abbiamo legato anche gli ospiti Quindi come intrattenimento della serata abbiamo Angelo De Roma da legare Quindi è un angolo della struttura dove si legano le persone E abbiamo legato Angelo De Roma e Sergio Menia che tira la fune Che gli sta strappando il costato Ecco qua, non fare queste mosse che sei in nulla Comunque, allora, un auguri a Pierluigi e Anastasio, vai veloce veloce Auguri, aiutami Aiuto, lo stiamo legando Ecco Pierluigi che arriva in soccorso Ma vuole essere liberato o no? Questo mi chiedo Allora, Menia, che cosa dicevi? Il bagno in piscina lo farò mai con la pioggia Ha detto Menia che il bagno in piscina lo farà sempre, anche con la pioggia Sei fresca, ma E adesso sarà il secondo, mi correggo, no? Il primo a tuffarsi Sarà il secondo dopo Pierluigi e Anastasio che non lo sa ancora ma adesso verrà buttato in piscina È classico Seguiteci, seguiteci No, trascendi, trascendi No, non si vede Non fa il culo Dichiarate Vogliamo una donna qui Vogliamo uscire Vogliamo una donna qui Allora, con un bel sandwich, dai, il panino Volete la fetta di mortadelli Sicuramente Uscire è una bella idea Fortunatamente i telefonini li ho lasciati a casa Benissimo Sono belle però, sono eleganti Anche in piscina Me l'hanno regalato un'altra al compleanno, quindi va bene Mamma, è vero se è fermato Se è fermato va bene, dai Ciao, in giro per voi, grazie In giro per voi, in giro per noi, in giro per tutto il mondo Oh, è il culo